Oggi la modernizzazione delle statistiche agricole in supporto dell'agenda di sviluppo di sviluppo di sviluppo di sviluppo di sviluppo è il titolo della conferenza che ha appena aperto alla città del FAO in Roma. Stiamo parlando con l'Istat Presidente Giorgio Aleva su questo tema. Sì, abbiamo scelto questo titolo, chiarificando che la modernizzazione dei processi statistiche e dell'organizzazione è la righte risposta alla crescita della demanda per informazioni anche in questo campo. Questo significa poter esplorire tecnologiche, metodologiche e esforzi che sono fatte in diverse parti del mondo, per condividere, avere un'attività comunale e migliorare la qualità di sviluppo di sviluppo di sviluppo. Grazie 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 Grazie